La manovra finanziaria oggi in aula con l'ok incassato da Revisori dei Conti che mette dunque il percorso in discesa ma senza il benché minimo confronto prima, manovra da 14 miliardi. Per l'assessore al bilancio Mauro Quaglieri è un buon bilancio che certifica il riequilibrio dei conti della Regione Abruzzo. Una manovra corposa, una manovra che è figlia di un riequilibrio finanziario e di bilancio che ha fatto la Regione in questi anni con le parifiche della Corte dei Conti, quindi ci permette di liberare notevole energie economiche per investimenti importanti nella nostra Regione. Una cosa fondamentale di primaria importanza sono gli investimenti dell'edilizia sanitaria che sono da più di 20 anni che noi non riuscivamo a investire e quindi a rigenerare quella che è l'edilizia sanitaria. Troviamo Vasto, Lanciano, Avezzano, Teramo, quindi abbiamo una notevole accelerazione su questo versante. Non c'è stato il parere ieri della Commissione Bilancio e la legge è arrivata in aula senza questo parere. Pochi emendamenti in Commissione ma una marea oggi in Consiglio. Uno dei più importanti riguarda gli aiuti alle imprese agricole che rischiano il default dopo i danni da maltempo, con la proposta del PD di istituire un apposito fondo di 25 milioni per il 2024, ma per il Partito Democratico il bilancio certifica è 5 anni di zero di Marsilio. Ho ripreso il programma con il quale si candidò nel 2019 e ad oggi, dopo 5 anni, a conclusione di questa legislatura, neanche una sola promessa e un solo impegno è stato mantenuto. Dal taglio delle risorse del masterplan a tutte le infrastrutture fino ad arrivare all'incapacità di spesa per i fondi dell'irrigo e non solo del PNRR. Il tradimento sulla sanità con 25 mila prestazioni in meno. La lontananza e la distanza dai reali problemi dei cittadini e delle nostre comunità. L'agricoltura e il vitivinicolo attendono risorse e lui, Marsilio, maltratta il settore primario. Sulla questione della trasporto e dell'infrastruttura e dell'intermodalità, un tradimento in piena linea. Molto critico anche il Movimento 5 Stelle sul fatto che non ci sia stata una discussione prima in commissione. Tanti gli emendamenti, ma quello più importante è sicuramente quello dell'agricoltura per il capogruppo Taglieri. Gli emendamenti sono stati presentati per dare un atto di indirizzo. Non abbiamo avuto la possibilità di confrontarci col governo e neanche di ascoltare i portatori di interesse. Oggi effettivamente all'interno del Consiglio, cosa anomala che non è mai successa negli anni precedenti, si parte con un confronto, una discussione per capire cosa vuole fare questo governo e qual è la previsione di bilancio 24-25. Sicuramente da parte nostra ci sarà una sensibilità come atto di indirizzo delle risorse a manovra d'aura verso il primo settore, un settore in crisi, un settore che sicuramente ha bisogno di risposte sperando che le trovi nelle maglie di questo bilancio.